Di opportunità e risorse si è parlato oggi nel punto informativo del lavoro di Vallefoglia. La Regione marca in prima fila a presentare, in questo tour di incontri sul territorio, il programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, rivolto alla formazione di figure professionali capaci di rispondere alle esigenze del mercato lavorativo. Di fronte a imprenditori e associazioni locali sono stati quattro gli assi di intervento argomentati. 104 milioni di euro rivolti all'occupazione, 44 all'istruzione e formazione, 91 all'inclusione sociale e altri 44 milioni ai giovani. Un totale di 296 milioni di euro intercettati dall'Europa, ai quali si aggiungono quasi 50 milioni dalle risorse dello Stato. Una somma importante orientata a sopperire le criticità occupazionali presenti nelle Marche. Noi siamo qui a parlare di come intendiamo mettere in campo i fondi europei che abbiamo a disposizione per quello che riguarda la formazione, per quello che riguarda anche l'aiuto all'impresa per le assunzioni, per le stabilizzazioni. Ma più che altro vogliamo ascoltare in particolar modo proprio le esigenze dell'impresa, le esigenze che hanno loro nel coprire i posti di lavoro vacanti, le professionalità che gli mancano, come meglio da parte nostra indirizzare fondi per la formazione per portare avanti quelle figure che effettivamente servono all'impresa, perché altrimenti si riesca di mettere in campo conorsi di formazione creando delle professionalità che però non sono quelle delle imprese necessitano. È un incontro importante che abbiamo sollecitato anche come Unione dei Comuni all'assessore che era venuto a fare un sopralluogo perché qui a Morciola al punto di formazione lavoro che dipende dal centro per l'impiego di Pesaro ci sono cinque laboratori per la formazione professionale e avere le opportunità dai fondi europei di formare le persone che servono alle imprese vuol dire creare lavoro, creare opportunità. L'incontro con le imprese, l'incontro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori che cercano lavoro, le imprese offrono lavoro. Sono i settori manufatturieri e imprenditoriali quelli con più carenza di personale sia a livello provinciale che regionale. Quello che manca spesso nelle imprese sono dei tecnici. Oggi le attività all'interno delle imprese non sono più quelle classiche del cosiddetto operaio che manualmente fa delle cose e ripetitivamente le fa sempre le stesse. Oggi con la digitalizzazione, l'innalzamento professionale, l'ammodernamento delle strutture, servono professionalità sempre più precise. La meccatronica ad esempio. Noi puntiamo molto proprio sull'innovazione tecnologica e sull'accrescimento professionale di figure che magari sono anche già inserite nel mondo del lavoro ma non sono magari predisposte e adatte a come il lavoro sta evolvendo. Quindi c'è da formare chi non lavora ed è in cerca ma c'è da formare anche chi già lavora e che magari ha bisogno di un accrescimento professionale per adeguarsi alle nuove tecniche di lavorazione. L'edilizia, molte aziende sono con ricambio generazionale fallite quindi c'è un problema di costruzione di abitazioni e di formazione anche di fare impresa, di insegnare a fare l'impresa.